Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovi video di news, nuovi video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. La Microsoft ha sorpresa durante la sua conferenza alle 3 2015 in questa importantissima fiera videoludica ha annunciato il suo nuovo controller che appende il nome di Xbox Elite Wireless. Controller studiato appositamente per Xbox One e Windows 10 ma soprattutto per i giocatori più esigenti, per i pro-gamer se possiamo dire così, un nuovo controller pro. Questo controller apporta tantissime novità, innanzitutto troveremo la possibilità di personalizzarlo in tutto e per tutto come la sensibilità e il mappaggio dei pulsanti. Avremo la possibilità di sostituire i tassi, infatti i tassi saranno intercambiabili. Troveremo il tanto richiesto jack per il microfono senza bisogno dell'adattatore extra che vi avevo fatto già vedere perché io ho le cuffie originali dell'Xbox, ma soprattutto questo controller con il nuovo pad in basso a sinistra che sembra quasi argentato ha puntato tantissimo sulla precisione e sulla reattività. Al momento non si hanno informazioni su prezzo e data di rilascio ma ovviamente tornerò con un video dedicato non appena disponibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo controller per Xbox One Elite, un vero e proprio controller pro. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.